Ciao a tutti, bentornati, come state? Sono Nicola Battavia, mi conoscete già come lo chef dei 180 secondi, quindi 3 minuti. Siamo a una ricetta che è abbastanza un cult della mia cucina, e cioè l'uovo. Al di là che il mio bistrò si chiama Dieghe, però l'uovo mi riconosce già negli ultimi 20 anni, faccio tante cose a base di uovo, ma qui siamo veramente sulla estrema semplicità. Allora, io sto usando un formaggio che voi sicuramente a casa conoscete tutti, lo stracchino, che è una cosa molto semplice, gustosa. Potete usare, ad esempio, noi siamo in Piemonte, potete usare anche una pasta di tomino. Allora, io la sto ammorbidendo, ci metto un pochettino di olio, appena appena, ok? Olio sempre della nostra selezione. L'ammorbidisco un pochettino, così. Ci metto appena appena un pochettino di acqua, giusto per farlo diventare cremoso, ok? E lo lascio qua, così. Intanto, qui c'è acqua che bolle, ho messo un pochettino di sale, ve lo faccio vedere, sale, un filino appena appena di aceto e poi vado a mettere l'uovo, in questo modo, ok? Quindi giro per creare un vortice attorno all'uovo, in modo che la bianca dell'uovo va sopra il tuorlo, va tutto attorno, ok? Questo è un classico uovo in camicia, che noi facciamo veramente spesso, in più modi, ok? In questo modo qua. Mentre cuoce, andiamo a prendere un piatto, ricordatevi che l'occhio vuole sempre la mia parte, sempre, sempre, molto importante. Vado a creare una sorta di quenelle, quindi a forma di conchiglia, in questo modo, va bene? Quindi l'uovo adesso ha finito di cuocere, in camicia, come vedete lo tiro su, eccolo qua. È una cosa bellissima, anche qui un piatto semplicissimo. Io gli do assolutamente un taglio, ma potete farlo anche con un cucchiaio, senza farlo col coppapasta. E poi vado a stendere questo stracchino, in questo modo, vedete? Lo adagio qua sopra, in questo modo qua. Qua ci potete poi mettere a vostra fantasia, a finirlo. A me piace l'idea di metterci delle nocciole tostate. Eh? E l'idea di fare appena appena con il miele, in questo modo qua. Che decorate anche un po' il piatto. Vedete? Così. Questo è un uovo in camicia, lo stracchino, nocciole e miele. Ciao, gustatevelo. Alla prossima! Ciao, gustatevelo.